lunedì 17 ottobre 2022 per la serie turismo che viene dal mare l'ex club med 1 oggi si chiama star clipper e la azamara dawn ieri era davanti al porto di amalfi stamattina si è trasferita qua è arrivata già all'alba alle 5 per il mare di ottobre bellissimo 5 alberi che non abbiamo mai visto con le vele spiegate grazie a tutti